Oggi 21 marzo, non a caso è stata scelta questa data perché con l'inizio della primavera vogliamo anche dare inizio a questa serie di eventi che hanno come scopo proprio di riportare in auge questa parola gentilezza, una parola che tutti noi usiamo, ma che probabilmente poche volte utilizziamo nel vero senso della parola. L'anno scorso l'associazione Core Tamor ci ha contattati come ha fatto con tutti i comuni d'Italia per aderire alla loro associazione che ha lo scopo di portare la gentilezza non solo all'interno delle amministrazioni ma anche all'interno delle scuole, delle associazioni sportive, associazioni culturali e quant'altro. e il sindaco Paolucci insieme alla sua giunta a noi ha trovato chiaramente terreno fertile perché per noi questa deve essere di primaria importanza e fondamentale. Molte volte ci si dimentica che alla base di tutto c'è la buona educazione, quindi qualsiasi cosa si faccia si deve mettere la buona educazione, tra cui appunto la gentilezza. La giornata della gentilezza ai nuovi nati e per i bambini nati nel 2021, chiaramente sono piccolini quindi c'è questa marmaglia di ragazzini che non vedete ma che ci sono e fanno grande confusione e si è pensato di parlare con loro, di far capire loro che cos'è la gentilezza perché secondo noi è importante da piccoli iniziare a comportarsi in una determinata maniera che poi va bene dappertutto, va bene nella scuola, va bene quando fai sport soprattutto, va bene quando decidi di scendere in politica, di entrare in un comune, amministrare un comune come facciamo noi quindi è fondamentale insomma parlarne e viverla. Questo murales che stiamo costruendo insieme a Maria Bartolucci che è la nostra artista di riferimento perché vive a pochi metri da qua e abbiamo deciso di creare appunto la chiave della gentilezza e questa frase è molto bella, la gentilezza è la chiave per vivere bene insieme, praticala con amore. Il centro di aggregazione giovanile di Rio Salso è un centro che è aperto sia ai bambini che anche ai ragazzi ed è aperto in due pomeriggi alla settimana, il lunedì ed il giovedì siamo aperti ai bambini e ai ragazzi dai 6 agli 11 anni ma è anche rivolto agli adolescenti dai 12 anni in su ed è aperto in un lato serale il giovedì sera dalle 20 alle 22.30 noi cerchiamo di offrire costantemente degli eventi, delle attività che possono essere attrattive per i giovani il centro infatti è suddiviso in diverse sale, abbiamo una sala di laboratori, una sala di aiuto compiti, diverse sale con ping pong, biliardino abbiamo una sala musica con diversi attrezzi, un computer da utilizzare e ultimamente abbiamo anche creato e installato un laboratorio, un'officina di riuso dove i ragazzi possono attraverso l'uso di attrezzi e materiali di recupero creare qualcosa di nuovo che altrimenti sarebbe stato buttato come vedete poi il centro di regazione ha anche ampi spazi, abbiamo il campetto da calcio, durante l'estate c'è la zona dell'orto, delle erbe aromatiche, un piccolo stagno con degli animali ed in generale cerchiamo di offrire un luogo dove i ragazzi e i giovani possano stare insieme infatti in una giornata come questa per noi è importante trasmettere il valore della gentilezza in quanto con le nostre iniziative cerchiamo di offrire uno spazio dove i ragazzi possano imparare a stare bene insieme e ad essere gentili e lo si diventa soltanto stando insieme con gli altri